Vede, per il mini hide and seek l'assistente ci ha fatto proprio una villettina da due soldi, è proprio piccola 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 Ma qua ci si trova subito, totalmente piccola Sì, ma non ci sono nascondigli Come faremo? Allora consolini, benvenuti nel nuovo mini hide and seek Ovvero l'hide and seek dove si fa wiii e si diventa minuscoli Esattamente, proprio così, poi si fa wiii e si torna normali Quest'oggi abbiamo una villa davvero enorme dove nasconderci Ovviamente ci sono un botto di nascondigli Quindi abbiamo deciso di limitare soltanto al pian terreno E se vi piace molto questa villa faremo anche il primo piano, quindi fatecelo sapere voi E poi vedo che c'è anche una specie di manzarda secondo piano infinita Lascia perdere, lascia perdere Ovviamente Ti voglio far fare al volo proprio un mini tour perché so che tu ti perdisci Beh giustamente, così anche consolini si ambientano Allora, solo questo e tutto il corridoio Ok Sinistra e destra, vedi che ci sono costantemente dei buchi dove passare Sì, dentro gli archi, certo Tu puoi passare da ognuno di essi, non cambia nulla Lì si sale verso l'alto e mi metto come si va Qua c'è uno stanzino Che è tipo il soggiorno C'è un po' di tutto Lavatrici, c'è di tutto Qua puoi ballare, c'è un casino Poi di qui abbiamo soltanto una piscina per toccare la piano Wow Beh giustamente Sendo una villa più grande C'è un po' di più grande e come può mancare una piscina Poi Questo mi ricorda Drifters Vero? Ah beh sì, un po' Messo così Un po' Lasciamo perdere, tanto non ho conoscere nessuno E poi Andando di qui C'è un posto per pregare Io mi sono già persa Beh è una piccola chiesa Giustamente Zona sportiva Ok Zona di medicina Guarda che bella Laboratorio Laboratorio Ok Poi dovrebbe esserci Qua vabbè i balconi e non andremo fuori Stanzino vuoto che vedi tu se vuoi utilizzare o meno E questo lato della casa Quindi il 50% della casa era quello Sì il 50% Andiamo bene L'altro 50% è da questo lato E abbiamo Allora arrivando da qui Dai che non mi hai perso Su 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 No mi sono già persa nel senso che non riuscirò mai a rimbarmi Cucina Enorme Davvero enorme Poi abbiamo altro soggiorno con pianoforte Divanoni e cose Ovviamente Stanzino piccolino con televisione Poi Cosa d'altro c'era Qua Dei telescopi Degli acquari e cosettina Molto bellina questa stanza Mi piace davvero un sacco E infine Qui c'è un'ultima stanza Una sorta di ufficio Ovviamente mancano le camere da letto Perché stanno al piano di sopra No certo Che utilizzeremo in un altro video Nel caso Che non stiamo andando lì E già così Non so come farò Quindi inizi tu Inizi a nascondermi Sì Ok Perché ho bisogno ancora di capire Va bene Cosa devo fare Mi devo mettere Io ti direi All'ingresso E non guardo Esattamente Posso andare? Sì Grazie cara Perfetto Ok Allora Mi ha intrigato molto questa zona Ovviamente Prenditi un po' di secondi Perché essendo così grande Soprattutto il primo round Secondo me ci si deve ambientare Trovare un bel posto Quindi dai Prenditi un po' di secondi Che dite? Quindi ha già fatto? Sì dai Ci sta Ci sta Voglio provare ad essere abbastanza gentile Perché sai È sufficientemente cattiva la casa Sì I soliti tre minuti Vero? Fai cinque Facciamo quattro Facciamo cinque Quattro Dai Ce n'è noioso Sta fermo quattro minuti E tu maccio Ok? Quattro minuti Per trovarmi Quattro minuti Per trovarmi Sono già avviati Vediamo un pochettino Vediamo un pochettino Ovviamente Consolini L'avete adorato Il primo episodio Che abbiamo fatto I miei Sì è andato benissimo Dobbiamo assolutamente farlo Quindi eccoci qua Che ci siamo Fere ovviamente adesso si perderà in tutta la casa Quindi consolini Possiamo chiacchierare Possiamo chiacchierare un sacco E quindi vediamo un po' Di che cosa potremmo parlare Allora Di quanto è grande questa casa? Di interessante Qualcosa di interessante Non lo so Fere Non so bene di che cosa chiacchierare con i consolini Perché so di avere talmente tanto tempo Eh certo Che mi sembra proprio un discorsone Proprio qualcosa di importante Di complesso Qualcosa Proprio Di intrigante Potremmo parlare Ok Del fatto Se i consolini Sono felici Di grani o meno Perché questa è una cosa Di cui sono molto curioso È un esperimento Che abbiamo voluto fare Sia a livello di gioco Dato che non facevamo un horror Credo da quando è iniziato il canale Perché mi sa che solo al tempo Avevamo fatto degli horror Avevamo fatto Emily wants to play E sia allo stesso tempo Non facevamo un gioco Diverso da Fortnite e da Minecraft Da un bel po' di tempo Quindi speriamo Che avviate apprezzato E che vogliate vedere il continuo Perché noi ci siamo divertiti Come sempre Ci divertiamo a fare qualcosa di nuovo Perché sono nuovi stimoli Quindi speriamo che vi piaccia Ci teniamo a tantissimo È impossibile E quindi Spero che siete stati felici Di questo esperimento Ovviamente Non so Quanta parte della casa Ho visitato E stiamo lavorando come muli Tanto 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 Ma proprio tanto Vabbè ci sta Ma a noi piace lavorare tanto Un minuto e trenta Esatto infatti Siamo felici E sei più o meno a metà del tempo Poco meno Non lo so Steph Cioè dammi qualche altra indizia È impossibile Devo? Eh penso di aver visitato pure tutto Cioè Ho a che fare con l'acqua Quindi o piscina O bagno O cucina Io non ho mai visto un bagno Sinceramente Ed è già gravissimo Fere È già gravissimo Cavolo se è grave È molto molto grave Però ho a che fare con l'acqua E teoricamente anche le lavatrici C'è tua ottima idea Però ti avrei detto Che nel caso sono sopra Quindi non ci sono cara Dove ero io? Sei passata due volte Perché ti ho vista due volte E allora la cucina Esattamente O la cucina o il salone Dieci secondi però Eh vabbè Non ce la fai vero? No Non ce la fai? Non mi ricordo neanche dov'è Steph Mi dispiace Aspetta però voglio trovarti Perché adesso vado in cucina E ti troverò Ok Dove è la cucina? Non si vede È tutto bianco Va bene Mi sono persa Volevo far vedere il mio bellissimo timer Mi sono persa Non lo so più dov'è Fammi vedere dov'eri Dentro un lavandino Ma dai Gli ho anche guardati il lavandino Guarda Perché non ti so Nello specifico ero in un angolino Mi sta nel primo E quindi non mi vedevo No Steph è troppo grande Sono stato bravo Davvero davvero tosta Sono stato bravo Ma come ci torno? Allora Dove sono adesso? Aspetta che anche io devo andare all'entrata Non mi devo perdere Però qua vedo le scale Quindi vuol dire che sono nel mid Ovvero nei corridoi Io sono nel laboratorio Quindi se vado qua Ecco vedete Spero di uscirne fuori In qualche modo Steph Dai io sono già all'entrata Allora Mentre Fere si nasconde Faccio una telefonata Che altrimenti oggi Non mangiamo E tu inizi a nasconderti Fere che Concentroti Inizia a nasconderti Ti do un sacco di tempo Per nasconderti Muoviti Ho fatto una telefonata Di tre minuti Ti sei nascosta bene Lo spero Vabbè Io mi sono nascosta Tipo in 10-15 secondi Allora mi hai sfruttato il tempo No vabbè Ho visto un bel nascondiglio Che mi sembra buono Sono riuscita a nascondermi Lì dietro Allora aspettate Che va via il timer Quindi va bene Quindi prima di iniziare A camminare Avviamo il timer Che altrimenti qua Non sappiamo quanto ci metto Faccio ripristina Avvia Quattro minuti per Steph È molto tosta Per trovare Fere Per trovare Fere Allora io controllo Subito La cucina Che lei potrebbe fare La furbetta Fare là L'antipatica Tipo ah Mi rinascondo Dove Steph Non si aspetta mai Steph non sono mai andata Nei posti Almeno ho sempre avuto La decenza di cambiare Magari in posti brutti Ma ho sempre cambiato Quindi quando mai Ho fatto ste robe È vero Ma è proprio per quello Che prima o poi È una villa enorme Di due miliardi di metri quadri Che cosa è arrivato Nel tuo stesso posto È ovvio che me ne scelgo Me lo aspetterei No E quindi funzionerebbe No non funziona It can work Perché vedi È il primo posto che guardi Quindi no non funziona Qua invece devi perdere Tempo a controllare tutto Perché c'è tanto da vedere Quindi devi perdere un botto di tempo Lo so che è dura Non ho mai detto che è semplice Infatti non mi sono vantato Di avere vinto il primo round Proprio perché so Che non è semplice So quanto può essere difficile Sono molto preoccupato io stesso Eh sì Sì vedo anche dove sei Però sinceramente Non è che ti so dire Se sei vicino o lontano Vedo che tu vedi Non ricordo tutte le stanze Quindi non ha molto senso Vedere dove tu sei Comunque Io in ogni caso Non mi muovo Quindi mi tengo il mio nascondiglio Ok Però è giusto per vedere Dove ti stai addentrando Ok allora Dovrebbe finito tutto questo lato Perché Fede Ha molti problemi ad orientarsi Ma in realtà è semplice C'è un corridoio di mezzo E ci sono tante da un lato E da un altro lato Non è per niente semplice È facilissimo È facilissimo È facilissimo Allora Allora Non so quanto ci ha messo L'assistente segreto A farla tutta Meno male che non ci dobbiamo preparare Noi queste cose Ci sarei rimasto dieci ore Per preparare Tutto Appunto per quello Abbiamo assunto un ragazzo Che ci fa le cose Stef Allora Mamma mia Che poi è anche divertente farlo Però non abbiamo proprio il tempo materiale Perché quando lo facevo mi divertivo Però non c'era il tempo Però ci passavamo tante ore Invece ovviamente Così possiamo fare un sacco di giochi in più Dedicare ad altro Allora E ma poi sinceramente Ok anche noi ci mettevamo tante ore Ma lui è più bravo di noi È più bravo È più bravo È più veloce È più bravo È più veloce Quindi ha anche senso E poi c'è È un tipo di persona che mi piace Quindi è bello lavorare con lui Bello 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 E poi ripeto È più bravo di noi Molto più bravo Quindi è giusto che le faccia lui È cattivo questo Anche perché sei Già stato nella mia stanza Steph Ti do un indizio Una volta credo Però ci sei passato Quanto sono? Due e venti Ehi anche hai guardato in quella zona Non mi hai visto eh Perché io non ti vedo da qui Ovviamente da quanto sono ben nascosta Però dal tuo schermo ho visto che hai ben guardato Dove ero io quindi A me piaceva molto qua Ma Dove? Nel mobile? Sì Non so se ci si possa entrare però Sì Secondo me sì Dentro il computer sarebbe bello Si potrà entrare Non credo Sarebbe bello Consolini Quando Quando tu esplori Attentamente Senti dire Che sei già Stato nella stanza In cui è la persona nascosta Capisci che Al 90% di probabilità Hai perso È proprio Una roba Pressoché matematica 5 step hai perso Cosa? 3 minuti e 5 3 minuti e 5 Fare 4 minuti Non fare sempre figuracce Non erano 3 minuti Per favore Ah ok Per favore Non c'è bisogno di fare figuracce Uffa Pensavo di aver già vinto Che tristezza No no Stai ancora rischiando cara Ok Stai ancora rischiando Perché Viliacca Allora mi avresti dato il consiglio davvero Alla fine dei giochi eh Cioè? Proprio Che me l'avevi dato Proprio fine 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 E sarebbe stato impossibile E sarebbe stato inutile Il tuo consiglio Ma no Ti ho dato un sacco di indizi Che vuoi? Uno E secondo la tua mente Dato che era solo a 3 minuti Era alla fine dei giochi Quando non ce l'avrei mai fatta Ma anche tu mi hai sempre dato I consigli alla fine Stef Non me li mai dai 3.46 Non me li puoi dare all'inizio? Niente Ho perso Sai Stef La libreria che ti piaceva tanto Dietro i libri Della tv Lì ti devi trasformare e controllare Si fa così Stef Lo so E io Oh sì Bello quel posto Ho controllato Ho ragione Poi ti ho distratto Parlando del pc E non c'è più No non è che mi hai distratto Cioè semplicemente Io l'ho controllato Ho fatto anche Vedo Ho fatto così Guarda Per controllare gli angoli Tadà E non ti vedevo lo stesso Perché mi sono messo nell'angolo qui Oh è stato difficilissimo Entrarci È stato difficilissimo Vedi E basta diventare l'1-8 No io non ce li avevo È perché te l'ho detto di tenerli Io non ce li avevo Sai cosa ho fatto Allora sono salita da grande sopra Mi sono trasformata a piccola E cadendo Sono riuscita a entrare Ok Ok Ben nascondiglio Ok Questo era cattivissimo Però sai com'è Non volevo perdere Perché ogni volta Ti faccio troppo gentili Tu invece sei bello cattivo Oh Devo comunque tenere un certo onore E fare i mira Allora è talmente grande la mappa È talmente lungo Che siamo già a un sacco di minuti di video Ok Quindi ci dobbiamo inventare Un'idea per far sì Che solo uno dei due si nasconde Ok Praticamente ti dico La stanza in cui sono nascosto Ok Ok Quindi sto studiando la stanza migliore Dove farlo E hai un minuto Per trovarmi in quella specifica stanza Ok È bello eh Ok Facciamo due renda al volo così Allora Facciamo laboratorio Eh io volevo andare nel laboratorio Fin dall'inizio Ma vedi che non lo trovo da nessuna parte Dove è finito È dall'altro lato della stanza Come fai a ricordartelo Cioè dove è finito il laboratorio Eh perché le stanze sono laterali Quindi se non le vedi tra le stanze laterali È che dall'altra parte Ti odio Mi stai seguendo? Sì ti sto seguendo Almeno quello lo so fare Non rompere Steph è proprio schifo E dov'è il laboratorio? Guarda Dov'è? Vieni Guarda quanto ci hai messo a trovarlo Sono andato dritto Fatto Ok Allora mi metto qui fuori Ok Ok Allora Steph rifletti Un minuto in una sola stanza È dura eh Sì Lo so È molto dura Lo so Steph ti devi muovere Ti devi muovere Che poi noi alle due Dobbiamo andare in live Con il nuovo aggiornamento di Fortnite Perché oggi è Oggi è il 24 Stiamo registrando questo video Martedì 24 Quindi muoviti Steph Perché è già l'una Sennò poi non facciamo in tempo Di essere veloce Lo so L'ho capito Però C'è un nascondiglio Che tu ti aspetti Ok 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 Vai Dai zitto Quello è un macchinario che fa rumori Quindi sei nel macchinario No Tutti i macchinari fanno rumori Ho paura Ho paura Ho paura 10 secondi Cosa Sotto il letto No Dove cavolo sei Beh io pensavo ti aspettassi un nascondiglio Che non stai neanche controllando Avrei fatto quello Cavolo Avrei fatto quello 25 secondi Dai smettila che mi metti Dove cavolo ti sei ficcato Cavolo di Steph Cavolo di Steph non si dice Non sono un cavolo Cavolo di Steph Non sono un cavolo Al massimo cavo il fiore Perché sono un fiore Appassito Appassito 40 secondi Ne mancano solo 20 E ho notato che non sai dove sono Ho notato Cavolo è piccolo il posto Lo so Lo so Ti sei ficcato qui dentro 10 secondi Quoi tra le pozioni È lì che pensavo che tu avresti controllato subito Infatti l'avevo già controllato Si vede Si vede 3 2 1 Cioè dove eri? Andata Guarda Girati Dove mi devo girare? Totalmente dalla parte apposta Qui Mi sono Oh Ero qua sotto Ma dai Ero possibile vederti Schifoso Schifoso Ok vai Ferre Tocca a te Quindi Steph è riuscito A stare nascosto Secondo me La troviamo in 20 secondi Cioè Non c'è più nulla Dove nascondersi Mi sembra davvero Impossibile Per riuscirci Per riuscirci È impossibile riuscirci Aspettiamo Sto guardando all'altro lato Così Al 100% Non la vedo Dimmi quando è fatto Cara Ferre Devo vedere se riesco a fare Vediamo se riesce a fare Riesce a fare Povera Dai Dai No non la fa fare Ah Non so dove andare È nel panico È nel panico Sì Ai 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 Se ti vuoi rendere Non fare una figuraccia Lo puoi fare Alla fine Hai il permesso Lo capisco Che sei preoccupata Che è troppo difficile Per te Ok ho fatto Vado Sì Avvio Avevo un'idea Che però non ha funzionato Quindi è l'ultimo girato Perché sono qui Stiamo 15 minuti Solo aspettare Che mi nascondo Questa è la very good Quale? Non te la faccio vedere Eh bambi Avevo finito Potevi farmelo vedere Tutto i letti No Steph Dai Volevo nascondermi Dentro quello scheletro Però purtroppo Non l'ha fatto Sarebbe stato divertente Cavolo Ci vuole un sacco Ad esplorare qua Non posso passare Quindi credo Che neanche tu Potessi passare Ovviamente no Non ci puoi passare Tu non ci posso passare Allora Qua avevo pensato Di andarci Però non mi sembra Che ci sia Fere Quanto sei? 45 45 secondi Di già Oh ma che? È passato velocissimo Il tempo Ma che? È tosto Te l'ho detto Il laboratorio È davvero difficile Ma tutta questa casa È complicata Niente Steph? No Finito Mi vedi? Qui dietro Cioè Faceva passare Di lì Se sali sulle pozioni Ti potevi nascondere Qui dietro Non può passare Io Beh certo No Non fa Ci fermiamo così Per questo video Mi sono assolutamente Divertito Sono assolutamente felice Del risultato È stata una cosa divertente Quando le cose finiscono in pareggio È la cosa migliore di tutte Perché lo sanno tutti Che non ci sono vincenti E perdenti nel mondo Ci sono soltanto i pareggi Quindi sono molto allegro E felice Ci fermiamo così E ci fermiamo così